Caldo torrido alternato a temporali violenti è un'estate che è arrivata tardi. Potrebbe essere il meteo l'imputato principale per la leggera flessione registrata in Riviera nel periodo gennaio-luglio per quanto riguarda il mercato turistico. Accompagnato da una forte ripresa dei mercati, come quello turchi e greco, altamente competitivi. Fatto sta che in base ai dati elaborati dall'Osservatorio Turistico di Regione Union Camera Emilia-Romagna in collaborazione con Trademark Italia, nei primi sette mesi dell'anno sono calati rispetto al 2018 le arrivi dello 0,4% e le presenze dello 0,6% dei turisti italiani, mentre gli stranieri sono aumentati del 4% negli arrivi e dell'1,4% nelle presenze. In totale, gli arrivi in Riviera si sono attestati a 4.165.000, più 0,5% sul 2018, le presenze a 21.428.000, meno 0,1%. Il mese di maggio, colpito maggiormente dal maltempo, ha registrato il dato peggiore, meno 6,2% gli arrivi e meno 12,3% le presenze. È andata meglio a giugno con una piccola ripresa dello 0,7% negli arrivi e del 2% nelle presenze, che non ha trovato però conferma a luglio, meno 3,9% gli arrivi e meno 2,8% le presenze. In totale, se consideriamo il periodo maggio-luglio, in base ai dati ancora provvisori, si è registrato un calo del 2,5% negli arrivi e del meno 2,1% nelle presenze, maggiore per il turismo nazionale, arrivi meno 3,4%, presenze meno 2,7%, molto più contenuto per quello estero, arrivi più 0,7%, presenze meno 0,4%. Grazie 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 a tutti.